ecco è terminato l'incontro 1 a 0 a favore della Virtus Castelfrentano il gol è stato realizzato nel primo tempo da dal numero 3 Pitbull Lorenzo Cuniberti bravi ragazzi 1 a 0 una gara sotto la pioggia freddo ecco il nostro Lele riprendete la roba dalla panchina ecco l'ola ecco l'ola ecco l'ola dei nostri ragazzi era un pezzo che non si faceva l'ola era un pezzo ecco il nostro Guazzadini Rezzetto bravo bravo 1 a 0 qua dal nuovo di via Olimpia concludiamo questa questa telecronica 1 a 0 a favore della Virtus Castelfrentano che si è portato a pari punti con l'Ortona a 9 punti superando anche la Valle Aventino che stava a 7 punti noi ne siamo a 9 a 9 a 9 Grazie a tutti